Tutte le mattine dal lunedì al venerdì calcio e caffè. La rassegna stampa, gli approfondimenti e le esclusive di Stadionews24. Collegamenti in diretta da Bocca di Falco per le conferenze stampa. Tutte le curiosità e gli approfondimenti sulla formazione primavera. Il calciogiovanile.com, trasmissione interamente dedicata al calcio giovanile palermitano. Da oltre dieci anni portiamo le notizie a casa vostra, come sempre, da una squadra vincente. Stadionews24, la nostra passione di fare notizie. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Cursal Bookmaker, la rubrica settimanale di Stadionews24 sulle scommesse per la giornata di campionato che si appresta a cominciare, ovvero l'ultima giornata del campionato di Serie A 2015-2016. Siamo qui con il nostro Massimo Monti. Salve Massimo! Ciao Benedetto! E non potevamo mancare all'ultimo appuntamento della stagione. Insomma, ci siamo visti, abbiamo lottato, abbiamo studiato, abbiamo perso, abbiamo vinto per tutta la stagione e quindi anche per quest'ultima giornata non potevamo che cercare di dare tutti i suggerimenti del caso e cercare di chiudere soprattutto magari col botto, magari con qualche vincita. Ultima giornata che sarà giornata di Verdetti soprattutto per quanto riguarda la Champions League e la zona retrocessione però la prima partita della settimana che inizia domani, inizia sabato, con gli anticipi non riguarda assolutamente Verdetti perché troviamo i campioni d'Italia in carica e riconfermati. È una squadra che si è salvata nell'ultima giornata, ovvero Juventus e Sampdoria. Partita che a leggere le quote sembra essere dal pronostico già scritto. Juventus la cui vittoria è quotata a 1,30, pareggio a 5,75. Vittoria della Sampdoria in trasferta che invece nelle quote di Cursal è data a 10. Allora Massimo, partita a senso unico. Partita sicuramente a senso unico perché nel turno precedente la Juventus forse non era concentrata, non era con la testa, insomma era ancora ai festeggiamenti e quindi sicuramente vorrà chiudere in casa con la vittoria. Poi appunto ci sarà la premiazione, ci sarà la consegna del trofeo, quindi sicuramente una partita che dal punto di vista del risultato si gioca solo con un risultato. Allegri ha tirato le orecchie ai giocatori perché ha detto niente festa, concentrati, dobbiamo continuare a lavorare per puntare poi alla partita, alla finale di Coppa Italia. La partita ha l'esito abbastanza scontato, come dicevamo, il segno 1 e 1,30 è un esito bassino, proviamo a giocare tutti gli altri segni, il segno 1 con handicap, il parziale finale, tutte le combo possiamo trovare che in agenzia, insomma in via Donnorione, in via Silvio Pellico potete trovare, quindi insomma troviamo altre soluzioni rispetto a questo 1,30 che è veramente basso. Partita che invece ha tutto da decidere, l'altro anticipo del sabato, quello che si giocherà allo stadio San Paolo di Napoli, tra il Napoli ancora a caccia degli ultimi punti fondamentali per tenere vivo il secondo posto e il Frosinone che ormai, come la Juventus e come la Sampedoria, non ha più nulla da chiedere al suo campionato, anche perché ormai è retrocesso matematicamente in Serie B, quote che vedono il Napoli ampiamente favorito, 1,08 la quota di Cursal Bookmaker per la vittoria della squadra di Maurizio Sarri, 11,25 la quota per il pareggio, addirittura 28 la quota per una vittoria che sarebbe la prima vittoria di una squadra diversa dal Napoli sul campo del San Paolo, ovvero quella del Frosinone. Assolutamente sì, è un Napoli che può vantare di questo record in questa stagione, quello di non avere mai perso in casa tra le Murami che è l'unica squadra di Serie A che non ha mai, appunto come dicevi prima, non ha mai perso. È un Napoli che al di là dei record, insomma che rimangono e contano poco, è un Napoli che sicuramente vorrà mantenere il secondo posto, quindi deve assolutamente vincere e contro il Frosinone, insomma io credo che ormai il Frosinone siano già mentalizzati per cercare di ripartire la prossima stagione e cercare di riprovarci, insomma come uno strisciano che abbiamo visto nella curva nel turno precedente, insomma c'erano i tifosi che era diciamo un inno e soprattutto un imperativo nei confronti della società e nel Presidente di riprovarci l'anno prossimo. Quindi partita al senso unico, un segno uno che paga 1,08 è una quota bassissima, anche qui vale lo stesso discorso che facevamo prima per la Juventus, andiamo a cercare tutti quegli altri segni, tutti quegli altri esiti che possono portare maggior reddito. Higuain a questo punto credo che cercherà di fare il più gol possibile a questo punto per cercare di arrivare al record di gol durante la stagione, quindi insomma partita ricca di gol secondo me è partita dove Higuain dovrebbe andare a rete più volte. Napoli che dunque insegue oltre alla Champions anche il record per il suo capocannoniere, per il bomber argentino Gonzalo Higuain ma adesso passiamo dalla caccia all'Europa che conta, alla caccia ad un'Europa per così dire di Serie B, all'Europa League quella che il Sassuolo sta clamorosamente strappando dalle mani del Milan che comunque ricordiamo ancora la possibilità di farcela tramite la Coppa Italia qualora dovesse vincere il trofeo in finale contro la Juventus sarebbe il Milan e non il Sassuolo ad accedere ai preliminari di Europa League ma intanto il Sassuolo vuole mantenere il sesto posto e per farlo deve vincere in casa contro l'Inter, Sassuolo favorito nelle quote di Cursal Bookmaker nella sfida del Mappei Stadium contro i Nerazzurri 1,85 la quota per il successo della squadra allenata da Di Francesco 3,95 la quota per il pareggio, vittoria dell'Inter invece data a 3,90 l'Inter che per molti è data in disarmo per questa partita anche perché l'intenzione di favorire il Milan a quanto pare non pare esserci la partita che credo che per l'Inter conti poco nel senso che la posizione UEFA non la perde sicuramente il quarto posto è lì, non è minacciato da nessuno e credo che a questo punto l'unica motivazione sarebbe quella di fare un dispetto al Milan però insomma nel calcio e durante la partita quando scendi in campo e odori l'erba tutti questi calcoli contano poco, conta la competizione, conta lo sport però secondo me il Sassuolo in questo momento ha qualche motivazione in più è molto più motivato contro un Inter che credo che a questo punto della stagione bisogna fare i conti e cercare di affrontare l'anno prossimo e ripartire da un nuovo progetto perché comunque al di là del quarto posto che tutto sommato è una stagione diciamo da vedere in mezzo bicchiere, mezzo pieno è anche vero che insomma sono veramente tanti punti dalla terza, dalla seconda e dalla Juventus addirittura ci sono più di 20 punti quindi secondo me è un Inter che dovrà di nuovo lavorare le quote come dicevi tu sono tutti per i padroni di casa i favori sono tutti per i padroni di casa un segno 1 che paga 1,85 questo lo vedo un esito possibile e questo insomma cercherei di rosso su questa partita, su questo segno 1 Sassuolo favorito dunque ma Sassuolo che potrebbe agguantare il sesto posto potrebbe mantenere il sesto posto anche qualora non dovesse arrivare un successo perché il Milan che gioca sempre sabato, sempre alle 20.45 non si ritrova affatto una partita semplice passiamo subito all'ultimo anticipo di quest'ultimo aggiornato ovvero quello tra Milan e Roma Roma ancora in corsa per il secondo posto in classifica è Roma che nelle quote di Cursal Bookmaker è favorita per un successo a San Siro 2,15 la quota per il segno 2 per la vittoria dei giallorossi sul campo del Milan, Milan la cui vittoria invece è quotata a 3,20 quota del pareggio invece data a 3,70 dunque Massimo, Milan che rischia comunque questo posto UEFA e tra l'altro l'ultima partita con la Roma non è delle più semplici un Milan visto alle ultime uscite sicuramente rischia perché non abbiamo visto un Milan così brillante un Milan spumeggiante come forse all'inizio della stagione insomma a metà stagione avevamo visto io penso che il Milan di Brocchi ha fatto passi indietro rispetto al Milan di Mijajlovic è una partita difficilissima per i padroni di casa perché affrontano la Roma che se togli il percorso della Juventus che è unico cioè la Roma avrebbe vinto lo scudetto perché ha fatto veramente un cammino importante perché insomma nelle ultime dieci partite ha realizzato, ha fatto sei vittori, tre pareggi insomma la Roma veramente dà un cammino importante quindi la partita, insomma i favori sono tutti per gli ospiti il segno 2 paga 2,15 è una quota importante è un esito che secondo me potrebbe arrivare e passiamo ora dalle partite del sabato a quelle della domenica quindi passiamo dalla lotta per l'Europa alla lotta per la salvezza prima però altre partite tra squadre che ormai non hanno più nulla da chiedere al campionato partiamo da Genoa-Atalanta si giocherà al Ferrari su ultima partita di campionato sia per Genoa che per Atalanta ovviamente nessuna delle due squadre ha più grossi obiettivi da raggiungere in classifica Genoa favorito dato a 1,95 nelle quote di Cursal Bookmaker 3,75 invece la quota per la vittoria dell'Atalanta 3,70 la quota per il pareggio tra due squadre che ormai hanno ampiamente concluso il loro campionato assolutamente stagione finita per entrambi tutto sommato finita anche bene insomma perché hanno raggiunto la soglia salvezza abbondantemente qualche giornata fa quindi è un Genoa che sicuramente giocando in casa vorrà regalare i tre punti ai propri tifosi vorrà regalare una vittoria e chiudere la stagione in bellezza quindi secondo me è una partita dal segno 1 insomma io lì proverei a giocare le varie combinazioni perché essendo l'ultima giornata secondo me saranno partite un po' un po' più spettacolare un po' più gol quindi proviamo a giocare tutte le combo con i segni 1 col gol col segno 1 con l'over insomma i risultati esatti tutti questi risultati strani sti 3 a 2 sti 4 a 3 proviamo a giocare tutti questi risultati con abbastanza gol la partita dicevo appunto secondo me è abbastanza scontato un esito insomma che non può tradire le attese anche perché nel Genoa c'è Pavoletti che cerca i gol decisivi per andare all'Europa e convincere sì assolutamente e poi come dicevi tu a microfoni spenti insomma si gioca per per questo per questo decimo posto che vale insomma come dicevi tu 3 milioni in più ecco tu magari sei più più informato non sono bruscolini non sono bruscolini lo stesso obiettivo per cui corrono anche per cui corre anche il Chievo più del Bologna Chievo e Bologna che si affrontano nell'ultima di campionato al Bentegodi Chievo favorito nelle quote di Cursal Bookmaker 2 e 15 la quota per la vittoria della squadra allenata da Rolando Maran 3 e 50 la quota per il pareggio 3 e 35 invece la quota per il successo di un Bologna che dopo aver raggiunto la tranquillità è totalmente crollato in classifica e vabbè ma insomma diciamo che l'obiettivo l'obiettivo l'hanno raggiunto e soprattutto penso che tutti si siano ricompattati per cercare di raggiungere come dicevi tu la quota salvezza quindi arrivando lì insomma forse hanno hanno mollato Chievo che sicuramente può considerare la propria stagione perfetta insomma non c'è nulla da dire per una squadra per una provinciale come il Chievo insomma ha raggiunto l'obiettivo pienamente e soprattutto insomma è lì se prendi il gruppo di testa delle grandi il Chievo è lì dietro insomma dietro Milan dietro Lazio quindi insomma nulla da dire segno 1 come dicevi tu insomma il proprio secondo me i favori sono pure per i padroni di cazza che anche loro vorrebbero secondo me vorranno regalare l'ultima vittoria della stagione ai propri tifosi programma di domenica alle 18 che si chiude con Empoli Torino altra partita con due squadre che ormai hanno ampiamente concluso il loro campionato un Empoli da applausi un Torino un po' meno da applausi Empoli favorito per quella che potrebbe essere l'ultima partita sulla panchina toscana di Marco Giampaolo 2,50 la quota di Cursal Bookmaker per il successo degli azzurri favoriti sul Torino la cui vittoria è data a 2,70 quota per il pareggio invece è data a 3,60 Empoli che si prepara a dare tanti addi non solo quello a Giampaolo ma anche a diversi giocatori Saponara Tonelli Mario Rui un Empoli che insomma avrà un clima anche di festa nel proprio stadio Sì insomma entrambi hanno avuto un campionato diciamo inverso nel senso che il Torino è partito benissimo aveva fatto un inizio di campionato veramente da considerare come rivelazione della stagione della Serie A l'Empoli invece ha cominciato piano piano e poi invece è venuto fuori alla grande adesso siamo siamo alla fine insomma come dicevi tu gli addi potrebbero essere appunto le motivazioni le motivazioni giuste però insomma secondo me sono due squadre che ormai sono in vacanza con la testa quindi insomma scenderanno per onorare il campo per onorare lo sport ma insomma sono due squadre che secondo me a questo punto da una parte e dall'altra non hanno più motivazioni perché da una parte c'è i giocatori dell'Empoli che vanno via dall'altra c'è Ventura che sta andando via insomma l'unico forse neopositivo di questa partita che abbiamo ritrovato due giovani importanti perché Saponaro da una parte Bellotti dall'altra insomma abbiamo un grosso patrimonio per i prossimi anni quindi secondo me è una partita diciamo che non ha nulla da dire le quote come vedete sono abbastanza diciamo equilibrate per tutti i segni sia il segno 1 che paga 2,50 che è una quota tantissima altissima il segno 2 è a 2,70 e l'X è la quota più alta addirittura a 3,60 partite tra squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato che si chiudono alle ore 18 dalle 20.45 in poi nella serata di domenica invece si apriranno le danze per quella che sarà l'ultimo round della lotta salvezza si parte da Udine dallo stadio Friuli occhi tutti sul Carpi che si gioca le ultime chance per un controsorpasso in classifica ai danni del Palermo Carpi che però parte sfavorito nei confronti dell'Udinese vittoria dell'Udinese data a 2,45 nelle quote di Cursal Bookmaker pareggio a 3,45 vittoria del Carpi che ricordiamo deve per forza vincere e sperare in un risultato che non sia una vittoria da parte del Palermo per sorpassarlo in classifica quotato il successo del Carpi al Friuli 2,90 Carpi che ricordiamo inoltre avrà 4 squalificati al di là degli squalificati insomma una partita che ha delle motivazioni importanti io credo che saranno lì tutti sia quelli del Carpi che quelli dell'Udinese con un occhio e un orecchio puntato al Renzo Barbera quindi congeleranno la partita sullo 0-0 se dovesse succedere veramente l'inverosimile a Palermo allora credo che l'Udinese possa eccederà il passo al Carpi insomma però insomma un messaggio agli amici del Carpi non abbiate a male dico non c'è niente da sperare contro il Palermo domenica insomma preparate le valigie e ritornate in Serie B insomma avete ben poco da sperare noi tutti appunto ci auguriamo questo segno questo segno 1 dell'Udinese così insomma non non soffriamo per 90 minuti e ci godiamo la festa a Palermo perché deve festeggiare la Diototo di Natale non possono fare una festa sì assolutamente con una sconfitta penso che di Natale meriti dopo una carriera meriti dopo una carriera facciamo tre gol dopo una carriera ad altissimi livelli come quella di Totò di Natale credo che meriti appunto una vittoria e chiudere in bellezza il proprio la propria carriera il programma della domenica sera intanto prosegue con Lazio-Fiorentina due squadre che hanno hanno deluso anche visto l'andamento iniziale del loro campionato Fiorentina ormai certa del quinto posto Lazio fuori dall'Europa però Lazio favorita per questa vittoria e per questa partita in casa contro i Viola 2,20 la quota di Cursa Bookmaker per il successo della squadra allenata da Simone Inzaghi all'ultima chiamata per restare sulla panchina bianco-celeste 3,65 la quota per il pareggio 3,10 invece la quota per una vittoria esterna della squadra allenata da Paolo Sousa ma tra le due quella che mi ha deluso di più è stata la Fiorentina se proprio devo esprimere un mio giudizio una Fiorentina che aveva cominciato col botto addirittura in un momento del campionato che si trovava lì in testa alla classifica insomma stavano tutti a sognare a non credere che si trovassero proprio lì in quella posizione di classifica quindi è una Fiorentina che secondo me nel girone di ritorno ha perso veramente tanto e io l'avevo detto un po' qualche rubrica addietro ho detto secondo me è successo qualcosa si è rotto si è rotto qualcosa nell'ingranaggio qualche comunicazione qualche cosa tra la società i giocatori tra i giocatori e l'allenatore insomma è successo qualcosa perché un cammino così col freno a mano tirato nel girone di ritorno non ci si aspettava dalla Fiorentina la Lazio sicuramente come dicevi tu leggermente favorita insomma una Lazio che a questo punto mister Inzaghi credo che abbia Inzaghi Junior mister Inzaghi credo che si voglia giocare tutto per essere lì anche l'anno prossimo quindi penso che il successo sia dovuto dall'altro lato abbiamo un allenatore che invece sembrerebbe che già abbia le valigie chiuse per andare via insomma l'allenatore della Fiorentina sembra che già sia con tutti e due i piedi fuori e adesso passiamo all'ultima partita della domenica sera quella che ci interessa con maggiore bisogno di parlare ci interessa con maggiore attenzione anche perché tutto quello che riguarda la corsa salvezza in realtà più che da Udinese e Carpi dipende da Palermo e della Sverona se il Palermo dovesse strappare i tre punti al Verona ogni risultato proveniente da Udine sarebbe a quel punto inutile per ogni discorso salvezza Palermo che nelle quote di corsa bookmaker è ampiamente favorito sul Verona ormai aritmeticamente ultimo in classifica Verona che verrà a Palermo anche con una formazione rimaneggiata non ci sarà Luca Toni è in dubbio Pazzini c'è il rischio che Del Neri venga a giocarsela con Juanito Gomez come centravanti atipico dunque Verona non nelle migliori condizioni Palermo la cui vittoria viene quotata a 1 e 22 pareggio dato a 6,50 vittoria del Verona data a 11,75 anche qui pronostico che sembra praticamente chiuso per il Palermo sì assolutamente poi leggevo un articolo che avevi scritto tu giorni fa per via di questi di questo paracadute insomma questo bonus paracadute che se il Verona se il Palermo dovesse arrivare in Serie A insomma il Verona arriverebbe qualche soldino teoricamente arriverebbe qualche soldino in più quindi insomma a questo punto ormai condannati perché non pensare alla cassa e quindi secondo me è un Palermo che prima di tutto dovrebbe fare una statua a Mondello togliamo la sinanetta e mettiamo quella di Bangoku come si chiama ma comunque tra l'altro Mets che si è mangiato due rigori nella giornata precedente quindi a posto della sinanetta mettiamo la sua statua e che appunto a questo punto della stagione all'ultima giornata dipende solo da se stesso il Palermo il destino è nelle proprie mani quindi a differenza nelle giornate precedenti che speravamo nel passo falso degli altri oggi invece dipendiamo da noi una vittoria metterebbe insomma tutto a tacere metterebbe tutto così come ci auguravamo e soprattutto chiuderebbe una stagione che è successo di tutto a Palermo quindi insomma chiudiamo la stagione e ripartiamo l'anno prossimo con un progetto un po' più sano Palermo che dunque si gioca la salvezza tra le muramiche voi invece vi ricordiamo potete giocare con le quote di Cursal Bookmaker nelle ricevitorie di via Silvio Pellico e via Don Orione vi aspettiamo ovviamente anche Angolor Bar Angolor Ristorazione non soltanto calcio tutti gli sport e non soltanto serie A quindi venite nelle nostre ricevitorie ovviamente giocate responsabilmente anche perché è l'ultima di campionato chiudiamo in bellezza chiudiamo anche facciamo anche la schedina ovviamente chiudiamo con la schedina io ti lancio subito l'uno del Palermo al bando la scaramanzia per quanto sia facile è anche un interessante per quanto mi riguarda 1,95 del Genoa la vittoria dei Rosso Blu contro l'Atalanta e io ti dico subito il segno 1 del Sassuolo a 1,85 avevamo visto e poi ti dico il segno 1 della Lazio a 2,20 perfetto con la nostra schedina quindi rinnoviamo l'appuntamento nel ricevitorie Cursal Bookmaker ma soprattutto rinnoviamo alla prossima stagione ormai l'appuntamento con la nostra rubrica caro Massimo grazie per essere stato con noi anche per questa stagione grazie a te ci rivediamo c'è la serie B quindi non possiamo mancare a tutti gli appuntamenti i negozi sono sempre aperti perché insomma continuiamo con tutti gli altri campionati diciamo appunto con la serie B e poi subito dopo abbiamo l'Europeo neanche abbiamo il tempo di riposarci abbiamo il tempo di prendere qualche giornata di sole fare qualche bagno al mare e poi riprendiamo di nuovo con l'Europeo quindi torneremo abbronzati per giocarci anche le partite dell'Europeo e tante altre competizioni la nostra rubrica invece si chiude qua per questa stagione grazie per averci seguito e alla prossima ciao tutte le mattine dal lunedì al venerdì calcio e caffè la rassegna stampa gli approfondimenti e le esclusive di Stadionews24 collegamenti in diretta da Bocca di Falco per le conferenze stampa tutte le curiosità e gli approfondimenti sulla formazione primavera ilcalciogiovanile.com trasmissione interamente dedicata al calcio giovanile palermitano da oltre dieci anni portiamo le notizie a casa vostra come sempre da una squadra vincente Stadionews24 la nostra passione di fare notizie di fare notizie di fare notizie di fare notizie